Ci troviamo a Soveria Mannelli quasi alla fine della nostra maratona ferroviaria nella sezione calabrese. Come già si è avuto modo di spiegare si tratta di un'iniziativa promossa dalla Confederazione Mobilità Dolce che è un insieme di associazioni di cui anche noi di Ferrovia in Calabria facciamo parte. La maratona è partita da Palermo e si concluderà domani a Pietrarsa al Museo Ferroviario Nazionale e appunto i responsabili di Comodo hanno scelto di percorrere in Calabria le tratte ferroviarie che purtroppo soffrono dei maggiori disagi per i pendolari e dell'abbandono infrastrutturale che si è susseguito da anni. Hanno percorsi infatti la Ferrovia Ionica da Reggio Calabria Centrale fino a Catanzaro Lido e poi adesso stiamo salendo da Catanzaro Lido verso Cosenza facendo tappa a Soveria Mannelli prendendo poi il bus sostitutivo fino a Rogliano e poi da Rogliano a Cosenza riprendendo il treno. Chiaramente come tutti sapranno si tratta di una linea ferroviaria che inizialmente era un'unica linea l'unico taglio di servizio si trova a Catanzaro Lido dove i treni del servizio metropolitano di Catanzaro interscambiavano con quelli diretti verso Soveria Mannelli ma che proseguivano anche verso Cosenza. Quindi quello che si vuole cercare di promuovere è proprio il rilancio di questa importantissima tratta anche in una funzione di collegamento tra Catanzaro e Cosenza che sono ormai due centri importantissimi, uno è il capoluogo di regione e l'altro sede della più importante università della Calabria ed è veramente inaccettabile che ancora oggi la linea sia separata, sia tagliata qui a Soveria Mannelli e che sia necessario questo trasbordo. Si spera che siano confermate le voci che parlano di un reperimento di 10 milioni di euro da parte della regione Calabria sono fondi relativi proprio alla difesa del territorio, il contrasto del stesso idrogeologico che potrebbero essere necessari e utili alla messa in sicurezza delle due frane che hanno interrotto la ferrovia a Carpanzano e a Celsita. Quindi il ripristino integrale della linea anche senza la velocizzazione di cui si sta parlando molto ultimamente potrebbe essere un fattore importantissimo appunto per questo territorio per riuscire nuovamente a connetterlo anche con Cosenza e non solo con Catanzaro.